La perdonanza nel monastero di San Basilio, il più antico della città, torna con la Cordata per l'Africa, giunta alla 17esima edizione, iniziativa che prevede molti appuntamenti dal 20 al 30 agosto nel monastero, caffè di solidarietà, convegni, musica, racconti centrali sul perdono, riflessioni sulla perdonanza moderna e tanto altro, con lo scopo di raccogliere fondi per le emissioni delle suore in Africa. Convegni, omaggi musicali, mostre qui all'interno, anche una mostra di arte contemporanea in un monastero di clausura, quindi cose abbastanza, come dire, singolari, ma la vera singolarità è che in questa nostra iniziativa non vogliamo spendere soldi, anzi non spenderemo soldi, ma abbiamo l'utopia di raccoglierli, insomma mi sembra una cosa abbastanza singolare anche questa, per la missione in Africa, per le emissioni in Africa e nelle Filippine che le suore hanno, per cercare di aiutare questo che è l'ultimo avamposto al mondo dell'Ordine dei Celestini. In occasione della presentazione del programma è stato donato pure dall'artista romeno Cristiano Ungureano un quadro raffigurante al rosone di Collemaggio, che l'artista espose cinque anni fa in una mostra in città. Con grande onore, grande gioia, offro questo quadro alla città di L'Aquila, che mi ha ospitato cinque anni fa con una mostra nel Palazzo Fibioni del Comune di L'Aquila. È per segno di amicizia, di rispetto, di consenso con le forze di questa città che rinasce. Lo vedo dopo cinque anni, sono molto pieno di gioia per vedere come la città rinasce.